Nella mia classe siamo circa 20. Siamo italiani, tunisini, marocchini e cinesi. Nella mia classe ci sono 24 alunni. Sono italiani, bengalesi, indiani, macedoni. Questa è la bandiera dell'Italia e la bandiera dove sono nata. Il mio migliore amico si chiama Federico. All'inizio della prima elementare mi ha supportato, mi ha aiutato. È stato il primo amico che ho avuto. Il mio migliore amico tunisino e un altro mio migliore amico ucraino. Spagnoli, cinesi, bengalesi, turchi. Mi piace perché così conosco le loro tradizioni e come parlano. Tifo per la squadra dell'Italia. Quando penso, la maggior parte, penso in italiano. Nel mio cuore io sono metà italiana e metà cinesi. Dopo essere diventato grande ho capito che il mio nome rimane uguale dappertutto nel mondo. Mi sento che il mio futuro sta in Italia. Io in futuro vorrei andare in tantissimi posti ma la mia abitazione rimarrà sempre qui in Italia. Mi piacerebbe molto essere considerato un cittadino italiano. Bbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbub Grazie a tutti.